Buon appetito, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti. No, non ci siamo, non ci siamo per niente, allora, qui trovate la recensione della Rebel Moon parte 1, Fia del Fuoco, però non ci siamo perché secondo me questo grande progetto di Zack Snyder, che da quello che ho capito ci saranno altri 4 film, nonostante, non ancora ufficiali, perché nonostante alla fine di Rebel Moon parte 1 c'è scritto Rebel Moon parte 2 uscirà il 19 aprile, alla fine di questo Rebel Moon non c'è uscito, Rebel Moon parte 3 uscirà, anche perché erano annunciati solo 2, ma a quanto pare ne faranno altri 4. Comunque, secondo me, questo secondo capitolo, questa seconda parte del grande progetto di Zack Snyder, secondo me è peggio del primo. Ed era difficile a far peggio del primo anche perché nel video dei peggiori film, nei migliori e peggiori film del 2023, nella parte dei peggiori, avevo messo Rebel Moon parte 1, e questo entra di diritto, credo, nei film peggiori del 2024, ho visto il voto che io ho dato, perché per il secondo film di fila la sceneggiatura è inesistente, inesistente. Lo posso accettare per il primo film che magari qualcosa è andato come potevi o come volevi, ma nel secondo film di fila non lo sopporto. Per due film ci sono due cose, per il primo film era dobbiamo creare un team per andare contro il mondo madre, e alla fine del film c'è una battaglia neanche particolarmente eccitante contro questo fantomatico mondo madre, o comunque contro l'armata di Atticus Nobles, benissimo. Questo film qua, per la prima parte bisogna prepararsi alla guerra contro il mondo madre, e nella seconda parte c'è una battaglia contro il mondo madre, o comunque, no, questa volta era proprio il mondo madre perché comunque arrivavano proprio le navi da lì. secondo film è una trama che si basa sull'attesa di una cosa e sulla preparazione di una cosa, con in mezzo niente, e quando arriva quella cosa ci sono i grandi effetti speciali, i grandi slow motion, però non puoi basarmi una sceneggiatura sui effetti speciali, sui slow motion. Begli effetti speciali, per carità, però, ripeto, un po' come Godzilla 2 e King of the Monsters, non puoi pensare che degli effetti speciali fighi colmano l'assenza di una trama. Se no, allora tutti i film sono belli, quegli effetti speciali belli. Quindi, qui, in questo film qua, abbiamo una prima parte dove c'è una preparazione del villaggio da parte dei nostri protagonisti, molto classica, c'è una preparazione a una guerra di gente che non sa neanche impugnare un'arma, molto classica, niente di eccezionale. La seconda parte sono 45 minuti e più, 45 minuti effettivi di battaglia, 45 minuti di battaglia. Tu dici, minchia, che bello, tanta azione in 45 minuti di battaglia, e sono completamente d'accordo. Peccato che con 45 minuti di battaglia vengono, logicamente, annullate qualsiasi tipo di caratterizzazione dei personaggi. E uno dice, eh, chi se ne frega? Eh, non lo so, perché dopo succede una cosa a un personaggio, e tu dici, boh, non mi interessa assolutamente niente questa cosa. Soprattutto degli antagonisti, tipo Atticus Noble, che per il secondo film, il personaggio interpretato da Ed Scrain, rimane una macchietta come il regente Barisarius, che in due film si vedono letteralmente a testa in totale 10 minuti, non di più. Perché se non si pensa, alla fine il regente Barisarius, eh, scusate, l'Atticus Noble, non è che si vede tantissimo, eh. Cioè questo film lo vedi tre volte, non di più. Ma in queste tre volte, le prime due lo vedi un minuto, non di più, la seconda la vedi sei minuti, sette. Cioè, e quindi, Atticus Noble per me rimane veramente una macchietta, cioè rimane il villain che tanto non è importante chi è, perché tanto morirà sempre e sarà comunque inutile. E questo è, perché questo, quello che tu mi hai raccontato in due film, e dici, eh, ma mi sa che... No, mi sa che è un cazzo, perché io, in due film, per me Atticus Noble è niente di più di un mediocreissimo villain, ma soprattutto con zero caratterizzazione, ma zero, zero, zero. Come per il momento il regente Barisarius, ma quantomeno il regente Barisarius so che lo vedrà nei prossimi film. C'è da dire che la cosa che è aumentata rispetto al primo film sono gli slow motion, spesso completamente inutili, cioè veramente inutili e inspiegabili in certi momenti del film, e nonostante ci sia comunque dell'epicità nella battaglia, e questo va detto, manca, come hai detto prima, l'epicità in tutti i personaggi, perché c'è una scarsa alchimia nei personaggi, tipo in questo film qua mi aspettavo delle mosse in synchro tra i personaggi, ma c'è un pessimo utilizzo dei personaggi a livello on screen, come il robot Jimmy, eccolo qua, apparentemente importante, ma, cioè, in questo film è letteralmente degnato di tre scene, come il regente Barisarius, dando, secondo me, e questo secondo me è il fulcro della mia recensione, dando l'impressione che tra il primo film, La Ragazza di Fuoco, e questo film, La Sfiggiatrice, manca un film. Cioè, secondo me questo film dovrebbe essere il terzo, no? Il secondo. Perché, ovviamente, ma questo film dovrebbe essere il terzo, ma comunque questo film lo dovrebbe un po' cambiare, perché ci sono dei personaggi che tu dici, ma vedi che se me l'avessi spiegato in un altro film, sarebbe stato interessante, tipo, non lo so, il personaggio di Jimmy, secondo me è un po' l'emblema del tutto, cioè Jimmy letteralmente è fondamentale per questo film, per delle cose che dopo vi dico nella parte con spoiler, però questo film, oh ragazzi, fa tre scene, tre scene, lo vedi, come nel primo film, lo vedi Asparazio ogni tanto, e dopo fa di effettivo, che parla, fa tre scene, tra l'altro, Jimmy, il doppiatore originale, è Antonio Opikis, non io, cioè voglio dire, e tra l'altro, a proposito di aver fatto un film in mezzo, avrei anche cambiato il senso al titolo di questo film qua, perché il primo, Rebel Moon, Fia del Fuoco, va bene, lo posso capire, qua, Rebel Moon, la sfavigiatrice, ha un senso, perché si chiama sfavigiatrice, ma letteralmente, da quello che mi hai fatto capire, da quella che mi hai fatto capire, ha senso per una cosa, cioè ha senso per una scena, neanche una cosa, una scena, secondo me, dopo nei commenti, se vedete che dico delle cose, che secondo me sono sbagliate, ditemelo, cioè secondo me, la sfavigiatrice, per chi ha visto il film, secondo me, il discorso sfavigiatrice, è solo a livello, qua, perché, perché viene detto, proprio in quella scena lì, comunque, allora adesso facciamo così, andiamo nella parte con spoiler, quindi chi non ha visto il film, se lo guardi su Netflix, e dopo continui con la parte con spoiler, 3, 2, 1, Cioè da quello che mi hai fatto vedere, questo, lei, questo film è, Rebemboon Party 2, la sfavigiatrice, perché, lui, Atticus Nobles, si è tenuto la, la cicatrice qua, e quindi è stato sfavigiatto, e lui dice, sono stato sfavigiatto dalla sfavigiatrice, cioè, allora, io, va bene il discorso del, che mi ha fatto un po' una backstories, del perché, lei è stata, è stata mandata via, e soprattutto, nel secondo film, mi ha fatto vedere, perché lei, è ricerca, è la più ricercata, dell'universo conosciuto, quando, credo che è una cosa, che mi dovevi far vedere, nella prima scena sua, perché, ha ucciso, la bambina, quella che lei proteggeva, per motivi, che va bene, quella scena lì, quando lei scappa, quella scena lì, si poteva fare di più, ma come un po' in tutta la scena, di questo film qua, quella scena lì, la domanda che mi sono fatto, è, ma perché c'è gente, che suona a caso, cioè, perché c'è gente, che fa la colonna sonora, vera, di quel film lì, di quella scena lì, perché vedi, quelli che suonano, che sono lì, che suonano e basta, e fanno la, letteralmente, fanno la colonna sonora, del film, perché i personaggi, si muovono, e agiscono, letteralmente in base, a come, a come va la colonna sonora, che dovrebbe essere, di solito il contrario, la colonna sonora, però, vabbè, fatto sta che, quella scena lì, l'ho capita, mi ha dato, una caratterizzazione, importante, della protagonista, anche se l'avrei fatta, molto, 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 molto meglio, non io l'avrei fatta meglio, cioè, quella parte lì, dovrebbe essere allungata, non esagero, venti minuti in più, nel film che vi dicevo di mezzo, quella scena lì è bella, ma quella scena lì, non dico che dovrei fare un film stand alone, ma, ma, ma forse anche sì, eh, e mettermela, venti minuti più lunga, e più corposa, in un altro film, se questo non me lo voleri, non me lo voleri far trovare, due ore e ventidue, visto che questo film dura due minuti, cioè ragazzi, se volete, stiamo qua, tutto il giorno, con questa recensione, ma, questo film qua, di base, dovrebbe essere come, come si chiama, Justice League, Snyder Cut, a proposito di Zack Snyder, vuoi farmi un film all'inverso, della, eh, Marvel, ovvero, non farmi, eh, Capitano America, Iron Man, Hulk, Thor, e dopo mi fai, gli Avengers, dove sono tutti insieme, e mi vuoi fare, come Justice League, Snyder Cut, o Justice League in generale, cioè, tutti i personaggi insieme, e dopo mi fai, i film singoli, a parte, eh, come si chiama, a parte, eh, Wonder Woman, eh, Superman, e Batman, che mi avevi fatto un film prima, ok, però, Justice League in generale, dura 4 ore e 2 minuti, cioè, il primo film dura, 2 ore e 14, questo film dura, 2 ore e 2 minuti, in totale, hai un 4 ore e 16, e in queste 4 ore e 16, io di tanti personaggi, so, nome, cioè, so, due cose, nome e, perché sono lì, basta, non c'è, cioè, il discorso che facevo prima, eh, esempio, cioè, questo film, di base, era la grande battaglia, facciamo un altro esempio, di una grande battaglia, e qua mi dice, eh, esagerato, assolutamente no, Avengers Endgame, ok, in Avengers Endgame, i personaggi ci conoscono, i personaggi ognuno, si conoscono tra di loro, non tu sai chi sono loro, si conoscono, uno sa le caratteristiche dell'altro, e, nella battaglia finale, c'è, un, oltre a, c'è uno scopo, c'è un qualcosa da fare, non, uno contro l'altro, è Ale, perché qua, di base, era solo letteralmente, una frazione contro l'altra, invece lì c'era, una frazione contro l'altra, ma, prendere il genio di infinito, togliere il guanto a Thanos, ok, c'era proprio delle cose da fare, qua è solo una battaglia, ma vabbè, i personaggi, fanno delle, cioè, si coordinano, hanno un piano, fanno delle, ma soprattutto qua, e questa è la frase, che per tanti sarà una minchiata, ma, per me è l'emblema dei 45 minuti finali, fanno delle mosse, tag team, tipo WWE, cioè, tipo, non so, Doctor Strange, che lancia, Black Panther, che si arampica, Spider-Man, che prende, come si chiama, con le raggiatele, lancia il, il guanto, Black Panther, proprio nel volo, che era stato lanciato, prima, da Doctor Strange, cioè, cose, fanno delle cose insieme, qua, niente, non c'è un, un, ma cazzo, una, una, una scena, su 45 minuti, dove i protagonisti, ovvero, Tarak, Titus, Gunnar, Jimmy, fanno, delle, delle mosse insieme, ma non, ma non, sparano insieme, cioè, io te lo lancio, tu lo tagli, io lo tengo fermo, tu lo accoltelli, io te lo lancio, qual'altro lo spara, e stiamo parlando, dei protagonisti del film, ma perché, perché nel film, in due film, i personaggi, scambiano, tre battute, l'uno con l'altro, cioè, la scena del, quando sono a tavola, e spiegano, il loro passato, l'ho apprezzata, da una parte, perché ho detto, finalmente, capisco qualcosa, ma dall'altra parte, mi ha fatto molto ridere, cioè, praticamente, hanno, Zack Snyder ha voluto, in una scena, raccontarti tutto il background, di un personaggio, no, Zack Snyder, non si fa così, quindi, non vuoi farmi, un film stand alone, su, Tarak, un film stand alone, su Titus, un film stand alone, sul, sul, adesso non mi scappa il nome, sull'asiatica, che tra l'altro, è un personaggio, molto interessante, non, 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 non vuoi farmi, un film stand alone, sulla tua protagonista, va bene, non farmi, un stand alone, sulla tua protagonista, però dopo, non ti lamentare, se i personaggi, hanno, zero caratterizzazione, e zero pathos, eh, ma, va bene, allora, quando muore, il personaggio dell'asiatica, personaggio interpretato da Bae Duna, eh, eh, ok, eh, è, è morto un personaggio, per me, non, tu non puoi pensare, che io mi affeziono al personaggio, in base a quanto sono figli, esteticamente, l'asiatica, aveva le brac, aveva le spade rasa, le braccia meccaniche, eh, il cappello da samurai, il figo, però non è che, cioè, non, non sono, cioè, detto proprio francamente, non sono più un bambino di sei anni, che vede un personaggio figo, e dici, ok, quello lì mi piace, perché è figo, com'è fatto esteticamente, no, cioè, per me, lì, è morto un personaggio, basta, cioè, l'asiatica, aveva fatto due scene, tra il primo e il secondo, e basta, ma soprattutto, dopo, non puoi pensare, che io mi commuova, o che ci sia un ben che minimo di emozioni, in me, quando il bambino, va dalla, il bambino biondo, va dalla, dall'asiatica, ed è dispiaciuto, perché lei è morta, cioè, qual è la relazione tra i due, il fatto che lei, mi ha preso il grano, e lui, e l'ha bloccato, però dopo si è messo un po' a ridere, cioè, questa è la caratterizzazione, che mi stai dando, su quella scena lì, ma che cavolo è quella roba lì, cioè, quella scena lì, non ha pathos, perché, il rapporto tra i due, non esiste, la caratterizzazione, del personaggio di, di asiatica, non esiste, cioè, e, e, per quello che ti dico, non vuoi farmi un film stand alone, sui personaggi, ok, non me ne vuoi caratterizzare bene, ok, per me, allora sono morto un personaggio, come era morto uno prima, poi, una cosa che non ho detto, nella parte del cosporio, ma lo dico adesso, senza farvi l'elenco, perché, soprattutto, io sono l'ultima persona, che dovrebbe fare questa cosa, e, questo film, comunque, anche se, secondo me, secondo me, leggermente meno, ma neanche tanto, questo film, continua, con le scopiazzature, da, eh, Star Wars, non citazioni, proprio, prendo la scena, la faccio uguale, ma questo era stato detto, anche al primo film, ed, ed è ovvio, è ovvio, perché se il primo film, è una, scopiazzatura, di Star Wars, e questo film, è, la seconda parte, cioè, non è un sequel, ambientato 40 anni dopo, che magari qualcosa è cambiato, no, è ambientato, 5 minuti dopo il primo, e, allora, è ovvio, che, questo, anche questo film, ha delle scopiazzature, a, Star Wars, come, non so, i robotoni, quelli, giganti, che sparano, che sarebbero, eh, nessuno mi ricordo, sarebbero questi, non so come si chiamano, perché sapete che io, non sopporto la saga di Star Wars, eh, che dopo, devi fare di tutto, per ovviamente, per distruggere, e vai dentro, devi fargli esplodere, benissimo, eh, ma dopo, per esempio, la scena dell'ascensore, quando, eh, Kora esce dall'ascensore, quella scena lì, mi è sembrata molto, la scena di Erdogan, quando, c'è Darth Vader, che esce con la spada, eh, dall'ascensore, senti il suono, ecco, bellissima quella scena lì, eh, mi è sembrata molto quella, anche se ovviamente, molto meno epica, perché ripeto, questo film, è, in tutto, molto meno epico, e, tipo, allora, sto cazzo, scusate il termine, sto cazzo, di Jimmy, lo vogliamo usare, o non lo vogliamo usare, è importante, o non è importante, è un personaggio a cui mi devo affezionare, o non è un personaggio a cui non me ne deve fare niente, perché è figo, è molto figo come personaggio, cioè, dentro proprio, ecco, questo qui è un robot, quindi, non è che ha particolare storia, anche se comunque un background ce l'ha, quindi, a livello estetico, è molto figo, questo robot, con gli occhi, con le robe che si illumina, le corna, il mantello, veramente, veramente, veramente figo, a livello estetico, questo lo devo dire, cioè, è veramente bello a livello estetico, ogni volta che lo vedo, dico, cazzo che figo che è, però, ripeto, fa quattro scene in quel film, lo vedi che scavuta i, guarda da lontano i protagonisti, e dopo, da nulla, arriva a salvare la, i cattivi, scusate, aiuta a salvare i buoni, quando stavano per essere uccisi, dalla macchina gigante, bene, e qua torniamo a quello che vi dicevo prima, che secondo me manca un film in mezzo, perché, quella scena lì, sarebbe stata epica, se, nel secondo film, lui fosse stato, sconfitto, fosse stato, magari distrutto, fosse stato, eh, rotto da Atticus Noble, e così, o magari, dal regente Balisarius, così mi facevi il fatto che, nel primo film c'era, nel secondo film c'era metà, ma dopo veniva sconfitto, e magari mi facevi anche un po' di, apprezzione, compassione per il personaggio, e dopo, perfettamente così, in quella scena lì, lui arrivava così, e, entrata epica, e dopo ovviamente però, mi dovevi motivare qualcosa, perché, è ovvio che dopo, cambiava il film, perché, se c'era un film in mezzo, cambiava qualcosa, questo film qua, ci staccionate, mi devi dire, questo personaggio qua, cosa mi rappresenta, perché, cioè, siamo già, tu mi dici, eh, magari al terzo film, ho capito, cazzo, al terzo film, e il primo film c'è, non so niente, il secondo film c'è, e so, da 0 a 10, so 1,5, dovevo aspettare il terzo film, per capire qualcosa, su questo personaggio, non potevi spiegarmelo, nei primi, nei primi due film, comunque, io non ho altro da dire, il mio voto è 5 e meno, che sarebbe 4 e 75, cioè, io, di questi personaggi, non so, niente, non so niente, secondo me, manca un film in mezzo, per caratterizzarmi bene i personaggi, perché, continuano, eh, questo progetto, che a quanto pare, andrà avanti per altri, 4 film, quindi, in totale, saranno 6 film, senza contare le, che ci sono anche le serie tv, i fumetti, come detto nel, nel video del, parte 1, che trovate qua in alto, eh, cioè, la siniciatura, per due film, non esiste, non esiste, e secondo me, continuo a dirlo, manca un film in mezzo, ma, Zack Snyder, io non so cosa ti stia succedendo, ma, non puoi pensare, che, la trama di due film, si sorregga sui effetti speciali, perché non funziona, così, tante cose, viste nel primo film, non hanno portato a niente, tante cose, in questo secondo film, non hanno portato a niente, questo film qua, dovrebbe essere l'epic battaglia, io per esempio, non l'ho detto prima, perché io, Tarak, mi aspettavo una scena con il grifone, per esempio, visto che nel primo film, sembrava una cosa, cioè, anzi, non una cosa, letteralmente, la presentazione del suo personaggio, era basata su questo, e anche, nel, quando si vede che Morse Padre, ha detto, c'è un grifone bianco, ok, questi grifoni, sono importanti, e perché non me li hai messi, in questa epica, grande battaglia, punto di domanda, boh, non si sa, cioè, io rimango veramente sconcertato, c'è un grandissimo cast, il regista comunque, i suoi bei film li ha fatti, però, qua, cioè, letteralmente, non so neanche di cosa parlare, perché si parla del niente, cioè, una sceneggiatura, che per 45 minuti, fa una battaglia, ma si dimentica completamente, di caratterizzare, qualsiasi tipo di personaggio, e Atticus Noble, rimane, una macchietta, vuoi mettermi anche Atticus Noble, nel quarto film, scusate, nel terzo film, va bene, allora, da ora in po', lo soprannominerò, Megatron, perché se no, ogni film che lo vedo perde, allora, cioè, sono contento, che il terzo film, non è stato ancora annunciato, cioè, hanno detto che ne faranno altri quattro, però non è ancora stato ancora annunciato, quindi magari, riusciranno a rimediare qualcosa, vedremo, scrivete nei commenti, cosa ne è piaciuto di questo film, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se vi incuriosisce questo progetto, se vi sta piacendo, pagina Facebook, profilo Instagram, mettete un mi piace, attivate la campagna delle notifiche, ci vediamo nella prossima volta, con il DAL, che fa parte dei Rebelli, in Rebemoon, parte 3, parte 1, di...